Sono un giovane attore e avrei voglia di fare un laboratorio un po' diverso dal solito. Sono una giovane attrice e anch'io ho lo stesso desiderio e non ho capito perché ho l'ombrello in mano. Dovremmo rivolgerci a Snaporaz, un gruppo giovane e dinamico, composto da Fulvio Vanacore, Gilda Dejaniro, ciao, Matteo Salimbeni, usta e quanto è alto. Vediamo nel dettaglio in cosa consiste il laboratorio. Dunque, sono tre giorni di arte. È un laboratorio di composizione scenica. Sì, e vengono lanciati dei temi e per ciascuno di essi il partecipante deve portare degli oggetti, delle musiche e creare delle scene insieme ai propri compagni. È una creazione collettiva e di volta in volta tu sei chiamato a fare l'attore, il regista, il drammaturgo. È un lavoro che parte dai propri punti di forza. Ma mi chiedo nel corso degli anni chi abbia partecipato a questo laboratorio. E questo chi è? Mai visto prima? Ah, anche questo è interessante. E poi? Oh, beh, beh, beh. Ma allora corro subito ad iscrivermi perché... Emozioni, emozioni, emozioni! Rumori di passi dei giovani attori che vanno a iscriversi al laboratorio. Insomma, l'avete capito.